L'assessore regionale alla sanità Massimo Russo rimuove tre, tra cui Oliviera D'Agrigento, dei quattro manager all'esame finanziario. Gli interventi al videogiornale, il servizio di Daniela Spalanca. La notizia era nell'aria da giorni, adesso è arrivata anche la conferma. L'assessore regionale alla sanità Massimo Russo alla fine ha emesso un verdetto inequivocabile licenziando tre dei quattro manager che hanno sforato il tetto del deficit imposto dalla regione. Rimossi dall'incarico il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Salvatore Olivieri, dell'ASP di Messina, Salvatore Giuffride, di Catania, Giuseppe Calaciura. Si salva solo quello dell'ASP di Siracusa, Franco Maniscalco. Una decisione che si attendeva con ansia e che adesso necessita solo della controfirma del governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, per ufficializzare i nomi dei commissari. Sul manager dell'ASP Agrigentina, come si sa, si era battuta nelle ultime settimane la mannaia del consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone. Il consigliere si era scagliato munendosi anche di un poster bus che ha sostato nello spiazzale antistante il San Giovanni di Dio di Agrigento contro la serie di nomine dirigenziali che, a suo dire, sarebbero avvenute con criteri lontani dall'imparzialità. Arnone aveva puntato il dito anche contro il mancato acquisto della risonanza magnetica, nonostante l'ASP di Agrigento abbia sforato il budget regionale, lasciando l'azienda con un deficit di 4 milioni di euro. Intanto però si sono schierati dalla parte del manager tanti medici e primari dell'ospedale, convinti che il suo operato ha portato buoni risultati all'interno della struttura e che l'accanimento politico contro di lui sia stato eccessivo. Il dottore Salvatore Olivieri è stato rimosso dal suo incarico, però bisogna anche ammettere che ha fatto tanto per la struttura ospedaliera del San Giovanni di Dio di Agrigento. Sì, sicuramente. Io sono qui da un annetto circa e desidero esprimere tutta la mia solidarietà al direttore generale, perché da quello che ho potuto ravvisare durante questa mia presenza ha portato avanti una gestione veramente intelligente, non ha fatto soffrire parti nelle richieste, cosa che accade in molti altri ospedali, per cui massima, totale solidarietà. La divisione di oculistica ha richiesto, sin dal 2006, una OCT, che è una sorta di TAC della retina e che consente di affrontare le patologie retiniche in maniera ben precisa. Solo con l'avvento del dottore Olivieri noi abbiamo e siamo riusciti ad avere questa TAC e finalmente possiamo dedicarci a tutte le patologie retiniche che interessano gran parte delle persone anziane. Dispiace da un punto di vista umano e grande rispetto professionale per il dottore Olivieri. Come direttore del Dipartimento di Chirurgia vorrei puntualizzare però tre cose molto importanti. Da anni noi aspettavamo che fossero ultimati i lavori per la sala operatoria della ginecologia e col dottore Olivieri questo obiettivo è stato raggiunto. Si stanno iniziando i lavori per la ristrutturazione della sala operatoria e questo lo dobbiamo al dottore Olivieri e poi non dimentichiamo che il dottore Olivieri ha dato un contributo importantissimo nell'evitare che questo ospedale fosse chiuso qualche anno fa. Quindi una grande stima e grande solidarietà al dottore Olivieri e credo anche che l'avvento delle nuove tecnologie ha contribuito anche allo sporamento dei 4 milioni che si dice.